amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo dell'allarme meteo che purtroppo sta colpendo tutto lo stivale sono ore di paura e di preoccupazione in tutta italia soprattutto al centro sud la regione più colpita è stata la campania segnaliamo un morto a napoli un signore di origini marocchine purtroppo è stato schiacciato da un albero ad avellino al centro storico è stata evacuata una piazza con 300 persone a causa di un argine che è straripato davvero si è rischiata la tragedia in generale danni incalcolabili in tutto lo stivale ma come detto soprattutto al centro sud nella migliore delle ipotesi siamo stati costretti a rimanere in casa ma purtroppo quello che ci addolora il fatto che ci siano state tre vittime il secondo canale di marco liguori ovviamente vi terrà aggiornati io vi ringrazio per l'attenzione scrivete nei commenti com'è il tempo dalle vostre parti se ci sono stati dei disagi o ad esempio dalle mie parti soffiava un vento fortissimo non ho mai visto un vento soffiare così forte in 36 anni per poco non rompeva i vetri delle finestre scrivete nei commenti se anche voi avete avuto dei disagi a causa del maltempo un saluto da marco liguori scrivetevi al secondo canale di marco liguori attivate la campanella lasciate il vostro commento risponderò di persona ciao a tutti